Buongiorno buongiorno coccodrilli ci siamo ci siamo è lui o non è lui certo che è lui lo schiso guardate come schisa si è venerdì si 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 è venerdì noi siamo super cariche perché alle 13.30 uscirà il video su youtube quindi chi non si è iscritto lo facesse ora facendo su col ditino qualcuno mi dice ma come mai inizi le storie con lo schiso ragazzi il caffè è un simbolo è il simbolo della mattina di risvegliarsi belli carichi energetici e io l'arsugo no vabbè sta pieno ragazzi stamattina sta pieno sta pieno perché poi sta pieno lo potete utilizzare per tutto per tutto sta pieno sta pieno sta pieno di puntini punti e comunque vi dico che secondo me tra un po di tempo qui sta pieno vi dico solo questo piccoli spoiler ogni tanto ultima comunicazione avete fino alle 12 di oggi per partecipare al contest tagliatelle di nonna maria e per acquistare gli ultimi pezzi sul mio store quindi fate swipe www.carlettolive.com sì ho fatto uno scherzo al nonno ma oggi farò una sorpresa ragazzi una sorpresa che da tanto che aspettava cioè che voleva fare lui ma l'ho anticipato io quindi ecco queste sono le comunicazioni un po di oggi volete carica sulle vostre storie si 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 è venerdì al massimo non abbassiamo mai l'asticella perché sennò ci fregano subito quindi belli carichi belli coccodrilli questa è la canottina del coccodrillo la farò vedere eccola dov'è perché stamattina sono allenato outfit da fashion block eccoci qua fashion block scarpa top questo è lo specchio di mariano di caprio eccolo sono arrivati due coccodrilli super coccodrilli dormi da re per il nonno per il nonno qua ancora non sa niente stiamo facendo una sorpresa forza 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 grandissimi questo lo portano via vedremo che bel prodotto che metteranno eh il nonno non sa niente guardate atletici guarda un po allora oggi ridi o oggi ridi o oggi ridi ora un po e david dice grazie non sa niente guarda è emozionato il coccodrillo eh oh sei contento eh si si sei emozionato eh lascia mi fa la capoccia sei contento o no? si si come l'ho da dire oh ringraziamo dormi da re grazia chi? dormi da re ringraziamo dormi dormi da re da re via settevalli a perugia vero? si si via settevalli sei contento o no? si 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 è calmato il leone di bastia ecco non mi sono calmato per niente guarda un po guarda come ride oggi guarda 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 il materazzo eccolo il telecomando vedi la mattina guarda 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 no tira i più angolati i caracchini con i canini o no? ma va no mamma mia guarda guardalo guardalo alzati come è o no? com'è? alzati e cammina che non ti si alza più alzati no non ti si alza più alzati che non ti si alza più sta a te sta a te sta a te sta a te bene in roma guarda quanto è feo stamattina eh tutta festa facile sta sull'antareno eh via zig e zacco guarda come ride guarda guarda come ride guarda ragazzi come ride oggi ride eh quanto è contento contento eh guarda come ride guarda come ride guarda eh vedo l'ora che arriva la mattina io non vedo l'ora che arriva la mattina come la mattina? eh non vedo l'ora che arriva la mattina ma chiudo io andavo a fangirlo sulla macchina eh eh come no dai là eh no oggi ci andiamo ci andiamo oggi eh ci andiamo? ci andiamo o no? dai che ti piace su che voglio ti piace o no niente coccodrilli ancora un'ora e poi il video sarà su youtube intanto continuate a iscrivervi voglio vedere una massa di coccodrilli adesso che si sposta e va sul mio canale youtube fate swipe così forte con il video mettetevi comodi mettetevi veramente comodi è ora fuori su youtube il video della consegna della punto drillo fate così con il ditino e godetevelo com'è? dimmi chi è questo che è il meno il meno subito la mano mia tu cazzo che gli fai? è muo anche Mariano tu sei un altro ruffiano che è Mariano? un altro ruffiano cioè è ruffiano lo sapeva ma perché? guarda ce la sta portala via chi non lo vuoi? ma perché? chi è una c***o hai visto che bestia che sei? guarda via macchina secondo me ti ci vuole una bella minicar ma quella minicar? le vende un amico mio Luca Parisi salutalo ciao ciao guardate la settimana scorsa cosa abbiamo fatto guardate cosa abbiamo fatto andiamo a provare la minicar insieme a Luca eccomi qua con Luca ciao ragazzi super mamma mia come va? adesso la proviamo andiamo via via eccoci qua ci siamo ci siamo guardate come si guida bene ragazzi fantastica al top ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo benedì cari qui Magari io a 14 anni da macchinetta così Stop La settimana ci sarà il video Me lo state chiedendo in tantissimi Dormimo? Ma che stai a fare? Dormi così a sedere? Che fai? Ma dormi o riposi gli occhi? E beh dice tu Allora nanno è vero che dormi E dice tu Ritorna Eccola Piccola C'è anche Mauro C'è anche Mauro Eccolo Mauro Pronti oggi Ho visto la gufata Che ti ha fatto oggi Taylor Certo Tu ci stai a mettere i soldi Ma noi qua ci stiamo a mettere il cuore Tutte le partite Tutte le partite Ci stiamo a mettere il cuore Ci stiamo a mettere Eh? Tu che gli vuoi da Taylor Mega? Che se facessi i cazzi sui Toh No Ma è una bella sorca Col pelo o senza? Penso senza Toh No Mannaggia Mannaggia Così No Vuoi al mare Dai Mi serve Panna al mare Oh no Ma vaffanculo Nonno Nonno Mi serve Panna al mare Dai Ti ho messo la tutta di Achille Lauro Ma perché? È tanto bella Ma certo Quei fiori Ebbè È bellissimo Ma vabbè Ma portala tu Ma te la portala fa a me No Io la metto Che io ho il problema No Eh? Fammi toccare una poccina Ma vaffanculo Va Fammi toccare Ah che seppia Fammi toccare una poccina Merde di coglioni Fammi toccare una poccina Fammi toccare sta cazzo Sei contento? Te l'aspettavi? No No Mi faccio un regalo grosso Fede Io te guardo Tutti i giorni Tutti Faccio colazione E la mattina Mi alzo di 5 Perché lavoro all'Eurospin Grande Lory Codrillo Sei in grande Lory Senti ma Mi raccomando Forza eh Tieni duro E non molla mai eh Io ho scritto Perché Sto scevoli con un cazzo Stando chiedere Sei un bravo maricolo Che ha permesso Alla moglie di adattare Oh no Molte piazze Ma è urla Guarda che serve sto coso Ma come che serve Urla forte Per sentì E c'è Ma che ce ne fanno? Allora Federico Si 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 è venerdì Si 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 venerdì È venerdì Venerdì È venerdì Sta pieno raga Sta pieno le Oh che cavolo ti ha fatto qui? Ma perché? Battene E dai via Ma perché? Fammi dormire di qui là E dai via Ma che dormi di qui? Battene Dai là O no? Posso dormire con te? No Con chi ha da dormire Con chi ha da dormire O no? Oh Allora Decià Per i coglioni Il pennello Il pennello Guarda che Guarda il pennello Levatela Porca Ma Ma un pennello Ma battane Battane che non ci vedo Dove la fa il pennello? Mi sta a parlare la luce Battane Oh codrilli Buonanotte Si chiude una giornata Fantastica Anche perché c'è stato Il video su YouTube E vi è piaciuto da morire Sono super felice Vi ringrazio tutti Con questa storia Vi vorrei veramente Abbracare come sempre Ma non si può Per il momento E Però È giusto che io vi ringrazia Perché Veramente siete stati Fantastici E Spero sempre Di farvi divertire Non mi resta che aggiungere Che ci vediamo domani Continuate a taggarmi Sulle vostre storie Chi non ha ancora visto Il video su YouTube Vada su YouTube E anche chi l'ha visto Lo può rivedere Perché tipo Cioè io ho detto Mettetevi con Che veramente È dieci minuti Ma dieci minuti Io appena l'ho visto Ho detto Madonna che bello Infatti voglio ringraziare Anche Lia Che è il mio Ragazzo che ha fatto il video Lia Pinciaroli Adesso lo taggo Ringraziatelo anche voi Buonanotte Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti